Buongiorno, io sono Massimo Valentino, sono il direttore della radiologia di Tolmezzo. Vi parlo della nuova apparecchiatura per radiologia dentale che abbiamo acquisito nei primi di novembre. Il 4 di novembre è stata inaugurata. Si tratta di un'apparecchiatura radiologica innovativa dal punto di vista della tematica a cui si rivolge. L'ortopantomografo era già presente a Gemona, ma era un ortopantomografo di vecchia tecnologia. È stato sostituito con questa nuova apparecchiatura, che è un'apparecchiatura che ha la caratteristica di essere completamente digitale, quindi con tutte quelle che possono essere i vantaggi di questa nuova tecnologia, che viene pienamente applicata al sistema informatico presente in azienda e che ha la possibilità di ridurre la dose al paziente. Questo vuol dire che soprattutto per la popolazione pediatrica e femminile avremo la possibilità di dare meno radiazioni e quindi di fornire un servizio meno dannoso rispetto al pregresso. È un'apparecchiatura facile e intuitiva da utilizzare, che permette al personale tecnico di ritagliare l'esame esattamente come deve essere fatto per lo specialista odontoiatra che poi se ne dovrà avvalere. Ha una serie di programmi che ci sono stati installati e che permettono di avere il miglior prodotto possibile attualmente sul mercato. Questa apparecchiatura sarà pienamente fruibile dal prossimo 17 novembre. Tenete presente che la nuova apparecchiatura avrà la possibilità di avere una prenotazione meglio organizzata rispetto alla precedente, in quanto abbiamo pensato, visto che avevamo la possibilità di ripartire con l'agenda di prenotazioni, abbiamo pensato di cercare di ritagliare anche in questo caso l'agenda di prenotazioni su quelle che possono essere le richieste dell'utenza. Quindi partiremo con una prima fase sperimentale che si concluderà il 31 dicembre con appuntamenti che sarà possibile avere, non soltanto la mattina come tradizionalmente è possibile in quasi tutte le strutture ospedaliere della nostra regione, ma con appuntamenti anche il pomeriggio e il sabato mattina. Riteniamo che il sabato mattina possa essere una fascia particolarmente utile per tutta quella utenza che è impegnata durante la settimana. In questo caso l'articolazione di offerta sarà quindi articolata sia su mattina che su pomeriggio e anche sul sabato mattina. La nuova apparecchiatura è già disponibile, il prodotto che ne deriva, quindi la classica lastra, sarà fornita come ormai consueto nella nostra azienda su supporto CD e quindi il paziente porterà a casa il suo dischetto con tutte le informazioni per lo specialista lontoiato.